Ieri c'è stata questa riunione tecnica che ha definito con chiarezza qual è il cronoprogramma del progetto di dragaggio che partirà lunedì prossimo con il posizionamento delle boe presso il porto di Pescara. Successivamente decorreranno i dieci giorni del monitoraggio previsto dall'autorizzazione emanata dal Ministero dell'Ambiente e terminati i dieci giorni di monitoraggio inizierà proprio l'attività di escavo, quindi di dragaggio e versamento in mare. Abbiamo ottenuto un risultato importante, ossia quello di utilizzare un correntometro diverso rispetto a quello sofisticato che il Ministero ci ha imposto e quindi questo fa sì che possiamo iniziare tutte le attività in anticipo e non aspettare l'arrivo di questo strumento che dovrebbe essere previsto tra il 5 e il 9 dicembre. Quanto materiale verrà dragato in questa prima fase? Si confermano i 72 mila metri cubi relativi alla darsena commerciale per poi passare sia alla fase della canalina sia alla parte relativa al porto canale. Abbiamo già iniziato l'attività di caratterizzazione di tutto il porto e quindi a stretto giro sapremo anche la qualità dei sedimenti che dovranno essere poi ricoverati in luoghi che dovremo stabilire con gli altri enti preposti.